Ciao a tutti da Chiara e Alessandro, ciao! Ciao, oggi siamo qua dal laghetto di Cascina della Marchesa, la sede della Tour in Marathon nel parco della Pellerina, per raccontarvi e per fare una sintesi di quello che è successo domenica scorsa alla mezza maratona. Grandissima giornata di festa, cosa dici Chiara? Giornata di festa, giornata di sole, giornata di sport, eravamo in tantissimi, è stato il record di partecipazione e anche il record della corsa maschile. Infatti Elisa Meli ha corso in? 1,01 e 49. Davvero uno spettacolo, una cornice poi stupenda, un pubblico veramente entusiasta di essere lì al 45esimo nord e di guardare la Tour in Marathon. Sì, di guardare la Tour in Marathon, ma anche tanta gente che ha partecipato, veramente è stato un record di partecipazione ma un record anche di arrivi, siete arrivati veramente in tanti tanti, quindi complimenti a tutti. E noi abbiamo una grandissima novità per tutti gli arrivati. Assolutamente, infatti da ieri sul sito sarà possibile vedere il video di tutti gli arrivi della mezza maratona di domenica scorsa. Direttamente ripresi dalle telecamere dei cronometristi, questa è una grandissima novità che Tour in Marathon offre a tutte le persone che hanno corso la Tour in Marathon. Esattamente, e quindi rivedetevi, cercatevi nel video e se volete vedere invece una sintesi e rivedervi in tv sul piccolo schermo, venerdì 8 ottobre potrete rivedervi su Rai Sport 1 alle ore 15.30 e su Rai Sport 2 alle ore 16.30. Senti, però ormai siamo al 30 di settembre e grandissime novità riguardano l'organizzazione della Maratona di Torino. Insomma, stiamo parlando di una delle prime 20 maratone del mondo e noi siamo entrati ormai in modalità operativa Tour in Marathon. La Maratona sarà appunto il 14 novembre, sarà una grande giornata di sport, ma anche di feste, insomma tutta la settimana che precederà la Maratona di Torino sarà possibile vedere i meravigliosi eventi che la Tour in Marathon ha in serbo e preparerà per voi. Quindi vi aspettiamo tutti il 14 novembre, ma vi aspettiamo anche tutti questi giorni sui nostri canali multimediali. Assolutamente, li ricordiamo Chiara? Assolutamente, allora c'è il Facebook Tour in Marathon, l'indirizzo è www.facebook.com.it C'è anche il profilo aziendale su Facebook www.facebook.com.it Tutte le vostre richieste, informazioni, novità o domande scriveteci una mail a chiara-tourinmarathon.it oppure bianchi-tourinmarathon.it E noi ci rivediamo domani. Un abbraccio, ciao a tutti.